E' stato un grandissimo Matteo Trentin, campione italiano di Borgo Val Sugana, ad aggiudicarsi vittorioso la tappa dell'85esimo Giro del Veneto di ciclismo, categoria professionisti, conclusa nel pomeriggio a Vicenza. Per la cronaca è stata una vittoria netta dell'atleta nazionale, già nominato capitano della squadra italiana, che ha battuto due atleti francesi nella volata a 5 prima del traguardo in Viale Roma. Una gara combattuta, partita da Padova poco dopo le 12 da Prato della Valle, su un percorso di 160 chilometri che dopo i Colli Ugani ha visto i Colli Berici protagonisti. Una prima fuga di una ventina di atleti è riuscita a distanziare il gruppone di due minuti già nel primo giro della tappa vicentina. La viabilità cittadina ha subito un sensibile contraccolpo di disagi per poter agevolare i tre passaggi previsti nel territorio comunale, nel tratto proveniente da Arcugnano, passando lungo la riviera Berica, nei pressi di Villa La Rotonda, il santuario di Monteberico, Viale Verona, prima di approdare nel cuore del centro storico cittadino. Tutto però si è svolto regolarmente e senza particolari intoppi. Un successo mediatico per i riflettori che si sono posati sulla città del palladio per questo prestigioso evento sportivo.